Era in piena attività l'azienda dolciaria dell'agro sarnese Nocerino che produceva e importava materie prime, dolci tipici natalizi, posta sotto sequestro dai carabinieri del NAS di Salerno, per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali sia nel deposito sia nel laboratorio di produzione. Oltre a numerosi prodotti scaduti e privi di rintracciabilità, i militari del nucleo antisofisticazioni di Salerno, diretti dal capitano Walter Feniello, hanno scoperto all'interno dell'opificio lupini, castagne e fichi secchi di provenienza turca, in pessimo stato di conservazione e invasi da insetti, che, una volta farciti con le mandorle, sarebbero stati venduti al dettaglio come prodotti tipici natalizi campani, insieme a torroncini, mostaccioli, roccocò e cioccolatini. L'operazione è stata eseguita in collaborazione con l'ASL. Secondo le ispezioni effettuate dai militari del nucleo antisofisticazioni, la ditta operava in violazione delle normative che garantiscono la salubrità degli alimenti. L'operazione si è conclusa con la chiusura sanitaria dell'intera struttura produttiva, che ha un valore complessivo di circa 500.000 euro, il sequestro di oltre 8 tonnellate di alimenti per un valore di mercato di 150.000 euro. Il titolare del deposito è stato denunciato per detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.